Voci del Tempo ritrovato, un titolo dal sapore prustiano, quello del nuovo libro del professor Emerico Giaccheri, presentato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata. Un tuffo nella memoria che ripercorre la vita dell'autore, dai ricordi di Roma bombardata alla liberazione, fino ai numerosi viaggi che hanno caratterizzato la vita del professore, che ha insegnato letteratura in numerosi atenei italiani e internazionali. Cosa l'ha spinta a intraprendere questo viaggio nella memoria? Sono stati gli 80, ho detto adesso bisogna fare un bilancio, questo bilancio deve essere un ripercorrere ciò che abbiamo vissuto, però non deve essere troppo di nostalgia, non deve essere saccente, deve essere così, un ritrovare, lasciare fluire liberamente quest'onda che si trasforma in parole, di parole che sognano di essere musica, ma non ci riescono, ma ci provano. La sua vita sembra essere stata un tendere verso esperienze sempre più complesse, dati i numerosi paesi che ha visitato, cosa le ha lasciato tutta questa esperienza? Non ho purtroppo viaggiato quanto avrei voluto, ma evidentemente l'allargamento dell'orizzonte, la presa di contatto con l'Europa, il soggiorno in Francia, il soggiorno in Svizzera, il soggiorno in Belgio, mi hanno fatto fare dei confronti, mi hanno fatto incontrare persone, mi hanno fatto incontrare paesi, mi hanno fatto bere vini particolari, mangiare cibi particolari, e una vita di incontri è sempre molto bella. Emerge dal volume un grande amore per la vita e per la letteratura, insieme a una sete di conoscenza che va ben oltre la semplice lettura dei testi più amati e che sconfina in un'identificazione profonda con gli autori che lo hanno accompagnato nel proprio percorso professionale. Nato allo stesso giorno del mese di Ungaretti, cosa l'accomuna al grande poeta? Qualcosa certo c'è, siamo nati in questo periodo in cui fiorisce la mimosa, nei semi la vita comincia a fremere e poi la passione per la luce, Ungaretti è un poeta della luce, e poi questa anche sua capacità di andare sempre oltre questo cammino così ricco, lui naturalmente lo ha praticato con ben altra tensione, con ben altra capacità, ma certo lo sogno anche, l'ho sognato anche abbastanza spesso, ed è stato sempre benevolo con me, l'ho accompagnato, ci accompagnavamo, quindi evidentemente qualcosa ci deve essere se sono rimasto così attaccato alla sua poesia. In questi ultimi tempi mi rivengono sotto mano testi dell'ultimo Ungaretti, gli ultimi cori della Terra Promessa, eccetera, che trovo bellissimi, è riuscito a rinnovarsi continuamente, lui ci c'è riuscito, io no, ma insomma l'importante è che ci sia riuscito lui e che io abbia potuto prenderne atto e comunicare quello che lui mi aveva dato ad altri, fare da tramite il nostro mestiere, umile mestiere di trasmettitori.